Poi Valiani prova a scattare ancora sulla corsia Pagano, se ne va da solo Valiani, pallone dentro per Ricchiuti Attenzione Ricchiuti cerca il numero, un rimpallo per Pagano sulla corsia, palla in mezzo, non esce Turchi Rete, ha segnato Getà, il pari del Rimini, 1-1 Fantastico, guarda fantastico Roberto, il Rimini ha tenuto il pallino in mano Questa nazione costruita alla grande, partita da Ricchiuti, rifinita da Pagano Cross perfetto e Getà qui ha fatto, si è riscattato da una partita mediocre Ha fatto un colpo di testa fantastico e posso dire questo, il Cesena viene punito Perché a mio avviso è entrato in campo con la mentalità, pur essendo un uomo in più Di giocare per difendere l'1-0 e non per affondare il Rimini Dunque il Rimini ha meritato secondo me il pareggio Sesto gol stagionale per Getà, meglio di lui solamente Adahilton e Bellucci Un gran campionato per il brasiliano, 15 reti l'anno scorso con il Crotone Il giocatore è arrivato alla 52esima marcatura in Serie B Getà Iscapulcio Neves, 27enne attaccante brasiliano Secondo campionato al Rimini, 21 minuti, 47 secondi sul cronometro Siamo a metà della ripresa, tutto da rifare per il Cesena Rincorsa terminata per ora per il Rimini Proprio Vincenzo nel momento in cui il Rimini sembrava stanco E il Cesena aveva costruito un paio di palle gol Siamo a metà della ripresa, tutto da rifare per il Rimini sembrava